Ma ciao cari e care! Oggi vi mostro in questo video il nuovissimo Milk Boost di Clarenza che viene definito come un latte colorato con microperle che si colorano a contatto con la pelle. Io l'ho acquistato nella colorazione numero 04. 50 ml di prodotto per 35,90€. Adesso andiamo a vederlo applicato sul viso. Grazie a tutti! Eccomi qui col make-up terminato. Devo dire che il risultato sul viso non è male. Il colore è perfetto per il mio incarnato. Ottimo! Al momento questo è tutto. Datemi il tempo di testarlo ancora un po' e soprattutto fuori casa per potervi dire di più. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Non dimenticate di mettere un pollicino in su e di lasciare un emoji come traccia che siete passati da qui. Un abbraccio grande! Ciao!